Buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui questa sera, che è una serata importante, una serata a suo modo abbastanza storica, che segna la ripresa delle attività culturali del nostro circolo di San Giuliano, dopo il rinnovo del Consiglio e della gestione. La volontà del Consiglio è di valorizzare al massimo la vocazione dell'Arci, che è l'attenzione alla cultura, alla socialità, alla solidarietà e all'analisi politica della storia del nostro Paese. È per questo motivo che siamo onorati che il primo ospite di questo nuovo ciclo di incontri, che avrà a grandi linee in cadenza mensile, sia Carlo Palermo, prima magistrato e poi avvocato, che non ha mai rinunciato al suo impegno civile, nonostante le gravi minacce a cui è stato esposto, ma ha scelto di rappresentare i familiari delle vittime del Mobi Prince, o Rosaria Costa e tutta la famiglia di suo marito, Vito Schifani, ucciso assieme agli altri uomini della scorta di Giovanni Falcone il 23 maggio 1992. Noi vogliamo dimostrare la nostra vicinanza e la nostra stima a Carlo Palermo in modo simbolico, con il dono della tessera di questo circolo. Detto questo, auguriamo una buona serata a tutti e arrivederci ai prossimi appuntamenti. Buonasera, sono Pala Baiocchi, sono giornalista di Iskra e sono anche un membro delle sezioni comuniste Gramsci-Berlinguer per la ricostruzione del PC, che sono un progetto di ricostruzione di quello che era il PC storico, per ritornare ai valori della Prima Repubblica, che ora sono completamente dimenticati e si vogliono trascinare nella costruzione di una nuova società, che ha parecchio a che vedere con quello di cui parleremo stasera, perché Carlo nel corso delle sue indagini che partono a Trento, alla fine degli anni 70, sono un'indagine che parte su una traccia di droga, un grosso traffico di droga con la Turchia, con il Libano, la Siria e quindi in un ambito in cui si stanno anche trasformando i mercati della droga, perché si affaccia sempre più prepotentemente la criminalità siciliana nella raffinazione e nel commercio della droga, fino a sostituire i marsigliesi, quelli che erano all'epoca i detentori del mercato della droga. Questo che parte quindi come un'indagine su un fatto di droga è in realtà una valenza diversa di cui piano piano si fa strada nell'indagine che segue Carlo Palermo fino ad arrivare a affermare una cosa che io non ho mai sentito dire da nessun altro, cioè che esiste un livello elevato, quello che viene chiamato il quarto livello e quindi esiste una rete narcoterroristica di origine massonica, che è qualche cosa di… io non avevo mai sentito parlare prima di una costruzione del genere. Quindi questo ha condizionato fortemente lo sviluppo dell'evoluzione della nostra società. Questa è l'indagine e i fatti successivi che poi arriveranno, un fatto che molti conoscono, nel 1985 a Carlo Palermo subisce un attentato a Trapani dove è stato trasferito, dopo che è stata tolta l'indagine di Trento, chiede il trasferimento a Trapani e subisce un attentato il 2 aprile del 1985 mentre attraversa, percorre una strada che è una strada obbligatoria che deve percorrere per andare da casa al lavoro, perché nel frattempo non ha trovato altro posto dove prendere casa, se non in quella località lì, quindi deve attraversare per forza quella strada che è stretta e tortuosa e in un determinato punto a pizzo lungo viene fatta saltare con un'autobomba che coinvolge però nell'esplosione una madre e i suoi due gemellini che portava a bordo e colpisce anche l'auto di Carlo Palermo e della sua scorta. Questo evento terribile, come poi ci racconterà Carlo e ci tengo particolarmente, anche il posto non è stato scelto a caso da questa entità di cui poi si parla nel libro che ha questo titolo così evocativo che è La Bestia. Io mi fermerei qui perché l'interesse per la storia che ha da raccontarci Carlo è determinante, quindi io ti chiederei di cominciare da quello che forse è il punto di inizio, questo che forse è il Lodo Moro, questo accordo che Aldo Moro quando era ministro degli esteri negli anni 70, tra il 73 e il 74, prevede con i paesi arabi, ha un tipo di impostazione Aldo Moro che è più aperto, è più filo arabo rispetto a quello che poi succederà dopo, ora siamo molto più filo israeliani che filo palestinesi. Il punto di caduta è il 1980 quando viene estradato questo terrorista che è un esperto di Sentex cioè questo esplosivo che viene utilizzato all'Aldaura, che viene utilizzato a Pizzolungo, che viene usato a Capaci e viene estradato quindi in violazione di questo Lodo Moro. Io mi fermerei qui se è sufficiente come abbrivio e quindi a te la parola. Io provo a parlare così perché tanto non credo che ci sia necessità di... mi sentite tutti dunque, intanto vi ringrazio per questa seconda occasione che ho avuto nello spazio di un anno di venire qui perché mi pare che non è nemmeno trascorso un anno, però vorrei ricordare che in passato sono venuto da queste parti numerose volte. Anche in passato ho avuto delle possibilità di incontrare ambiente universitario e anche di scontrarmi con dei fenomeni di criminalità di non poca entità in quanto in particolare io mi sono occupato del caso Moby Prince e quel caso purtroppo è rimasto insoluto e tale rimarrà insoluto nella nostra storia perché ormai è passato e trascorso troppo tempo per accertare le verità che sono nascoste dietro quelle di soli ma che contengono un elemento che è a vostra conoscenza immediata, vicina. Io riscontro sempre un fatto e cioè che la gente non conosce normalmente le realtà che sono proprio più vicine a loro. Voi avete vicino Camp Derby e tanto siete abituati a questa realtà che in qualche modo probabilmente consente anche attività lavorative a dei gruppi privilegiati di dipendenti che hanno accesso a quella struttura, però si tratta di una struttura che non è italiana e dovete tenere ben presente che Camp Derby è una base degli Stati Uniti, non è una base della Nato, cioè non è una base che faccia parte di quelle che servono per la nostra difesa, è una base militare degli Stati Uniti che è presente nel nostro territorio dalla fine della guerra, è stata creata dopo la fine della guerra per conservare armamenti che sotto terra e dentro dei grandi capannoni dove viene nascosto allo sguardo di tutte le persone che pur circolano attorno e che servono per fare le guerre, servono per fare le guerre. È una realtà, non è che io vi racconto qualche cosa che è una fantasia, voi vi vede in questa realtà che è qui vicino a voi e questa base non è stata scelta a caso, si trova lì per caso, ma è ben realizzata in quel preciso luogo dopo che era stata durante la guerra e alla fine della guerra utilizzata per mantenervi prigionieri, cioè è una struttura che è servita a compiere guerre e è servita al potere, al potere di chi? Al potere degli americani. e in particolare fu molto interessante studiare quel caso di Camp Derby perché Camp Derby proprio non era emersa nelle indagini che erano state fatte quando avvenne quell'episodio ormai tanto lontano che è del 1991, che è dell'aprile, 10 aprile del 1991. Guardate, noi abbiamo tante di quelle date nella nostra storia che sono avvolte nel mistero, ma poi piano piano uno ci riflette e ci pensa poi trova le spiegazioni, però le spiegazioni non è che possono darle solo i magistrati, è che i magistrati hanno certi limiti e noi dimentichiamo. Ecco, quell'episodio terribile che io immagino che molti di voi comunque lo ricorderanno fu un fatto stranissimo e cioè alle nove e mezza di sera nel porto di Livorno un traghetto, il mobi che trasportava dei viaggiatori in Sardegna esce dal porto e si scontra in pieno, prende in pieno a metà una petroliera dell'Algi e quindi da questo scontro praticamente muoiono di morte atroce, bruciati, arsi vivi, tutti i passeggeri che in quegli attimi successivi allo scontro all'impatto vennero fatti entrare dentro il salone perché forse venne pensato che lì potessero in qualche modo essere più sicuri, soltanto che prese fuoco tutto e ci fu soltanto un mozzo che si salvò appeso alla nave e anche su questa sopravvivenza poi si sono create numerose storie perché certe cose che lui sapeva poi sono state modificate eccetera ed è stato un episodio che non ha trovato mai una spiegazione perché venne detto così che c'era la nebbia oppure ci fu la distrazione di chi era al timone di quella nave e quindi praticamente in quel processo vennero solo e semplicemente individuate delle responsabilità minori di chi non aveva suonato le campane che insomma si stava muovendo eccetera insomma io dal 91 mi sono occupato di questo caso quando praticamente era già tutto finito tutto ormai superato tra tutte le assoluzioni possibili e nel 2006, nel 2007 vennero da me i familiari di colui il quale guidava quella nave chessa e il figlio che morì anche lui e il figlio cercò di dire voleva dimostrare che non era stata la colpa di suo padre angelo chessa e quindi insisteva insisteva e guardate che è un caso che è ancora senza soluzione e ve lo riassumo tanto perché sono cose delle quali non si parla mai però sono cose che riguardano anche la vostra realtà che è qui e allora me ne vengo qui per occuparmi di queste cose e che cosa scopro proprio in sintesi perché poi in fin dei conti parleremo di altro che cosa scopro che il porto di Livorno che è qui vicino a voi è anche il che è un porto civile è un porto civile in realtà viene utilizzato anche come porto militare per trasportare quegli armamenti che sono custoditi dentro la base di Camp Derby che è qualche chilometro all'interno qui che rientra nel territorio di Pisa e quindi per trasportare dalla base di Camp Derby armamenti cioè esplosivo, mine, armi di tutti i generi che noi non possiamo conoscere non sappiamo che cosa sia attraverso un canale vengono trasportati dentro il porto e dentro il porto sopra delle chiate che quindi fanno un tragitto che va dal territorio di Pisa fino al porto di Livorno portano alle navi militari o militarizzate militarizzate vuol dire che sono delle navi civili che vengono utilizzate per figli militari ecco e questi armamenti a queste navi queste navi dal porto da una certa parte del porto che è un po' della parte superiore poi vanno a compiere delle operazioni che sono stabilite dagli americani noi che abbiamo il principio di sovranità dello Stato cioè dovremmo in teoria esercitare la sovranità vuol dire essere padroni del nostro territorio ecco noi viviamo questa situazione fino a oggi in cui non conosciamo che cosa avviene su tutto questo itinerario che quella sera bastò semplicemente leggere sopra gli atti che c'erano erano presenti ma che nessuno ha mai voluto leggere quando si fecero quei processi indicavano che c'erano qualcosa come sette, otto navi che si trovavano nel porto e proprio contemporaneamente a quella collisione incredibile pazzesca avvennero delle operazioni di trasbordo di esplosivo che dalla base di Camp Derby venivano trasportate su una nave che si chiamava Cap Flattera che si trovava dentro il porto e allora ricostruì tutti i giorni prima e nei giorni prima avveniva ogni giorno questo via Pai avanti e indietro perché? perché? perché c'era la guerra in Iraq e la guerra in Iraq del 91 l'invasione dell'Iraq fatta da Bush Senior approvata dall'ONU e approvata anche dal nostro Parlamento perché dopo il crollo del muro di Berlino sono state superate quei principi che nella nostra Costituzione dicono che la guerra non deve essere utilizzata per la risoluzione delle controverse internazionali superate le barriere ideologiche anche la sinistra ha approvato gli interventi militari e noi abbiamo fatto per la prima volta parte di queste guerre internazionali sono dei fatti che sono storici che hanno segnato la nostra storia quell'episodio avviene esattamente l'ultimo giorno di guerra è l'ultimo giorno ed è un giorno importantissimo perché? perché c'è uno stato di emergenza durante quella guerra c'è uno stato di emergenza che consente agli americani di fare quello che cavolo vogliono perché gli statunitensi però gli statunitensi gli statunitensi fanno quello che vogliono e quindi quella che è nebbia in realtà non è nebbia perché l'avvisatore di Porto quello che vede il Porto e fa la sua relazione scrive che all'ora della collisione non c'è la nebbia è limpidissimo si vede e allora però i radar non funzionano non si sa che cosa è avvenuto non si ricostruisce dove dove stava la petroliera nessuno si occupa di queste navi dove si trovavano e anche se nel processo ci sta un ufficiale il quale dichiara io ho visto che avveniva avvenivano queste operazioni ricarico e scarico nessuno fa gli accertamenti io nel 2006 mi metto a fare queste verifiche invece che a Livorno a Pisa dove c'è il ponte se sbaglio mi si corregga Calambrone Calambrone quante avventure mamma mia che avventure che sono state e allora dato che è un ponte per voi che ci state sapete che quando debbano passare queste benedette chiate il ponte viene chiuso allora io dico vado a controllare invece che a Livorno dove vengono fatte sono state fatte le indagini io vado a fare le indagini a Pisa al ponte di Calambrone e ha trovato tutte le carte che cosa che indicavano i passaggi alle ore è passato scarica perché si vede quando è scarica e si vede quando è carica quindi entrano scariche e poi riescono cariche e quindi sono tutte cose che sarebbero state e sarebbe stato possibile ricostruire tutta questa attività qui e allora in parole povere che cosa stava avvenendo quella sera quella sera era l'ultimo giorno che consentiva agli americani come vi ho detto di operare tramite influenzando diciamo così la situazione locale di modo che non si potesse ricostruire quello che avveniva e che cosa loro facevano perché dato che era finita la guerra le navi stavano in realtà avrebbero dovuto portare indietro esplosivo cioè quello che non era stato utilizzato nella guerra in Iraq ma non era così perché invece stavano caricando e perché? perché gli americani nemmeno avevano finito di fare quella guerra e già stavano preparando quella che serviva per far saltare la Jugoslavia il che avvenne poco tempo dopo e noi Italia paese alleato e fedele alleato degli Stati Uniti noi in qualche modo di tutte queste vicende siamo stati partecipi siamo stati ecco io ho sentito la parola complici a determinati livelli complici perché certo la popolazione che cosa può sapere di queste cose ma quando esiste una legge la quale dice così che queste operazioni debbano essere tutte poste sotto controllo e che il il porto in questi casi dovrebbe essere fermo cioè le navi civili non dovrebbero circolare perché perché è pericoloso perché l'esplosivo cioè urtare contro queste una di queste chiatte significa causare morti civili e qualche cosa quindi quelle navi erano fantasma è come se non fossero esistite si è saputo di queste navi 10-15 anni dopo ecco e in quella denuncia che consentì la riapertura dell'istruttoria vennero anche ricostruite questi fatti ma pensate un po' chi è che ci è andato a mettere lo zampino questa è una cosa che bisognerebbe ricordare eppure a qualcuno che è stato al governo da poco la Lega che nel 91 già si muoveva e aveva dei grossi timori perché c'erano dei processi che venivano fatti a Verona da un certo magistrato che si chiamava Papalia perché facevano delle grosse manifestazioni tipo pure i quali carri armati allora dato che in quell'anno il 2005 2006 adesso non me lo ricordo quando è stato quando si è verificato il cambiamento della norma che prevede il reato di cessione della sovranità ecco dato che loro si preoccupavano perché loro divulgavano dei messaggi e facevano delle dimostrazioni nelle quali entrava in gioco l'applicazione di questa norma perché loro avrebbero voluto sganciarsi diciamo così volevano realizzare il federalismo cioè frazionare lo Stato cioè i loro principi all'inizio erano molto più accentuati ma non credo che non li abbiano dismessi quelli ecco queste cose qui e allora loro modificarono quella norma che era una norma a protezione del principio di sovranità dello Stato riducendole le pene in modo ridicolo e introducendo non solo una riduzione nelle pene ma mettendo un inciso cioè cessione con la forza che serviva diciamo così per escludere la volontà quando la cessione non avviene con la forza e allora tutta quell'indagine lì ha fatto sì che con tre righe il magistrato ha scritto quando anche ci fosse stata un un nesso di causalità tra i questi spostamenti di armi la presenza di queste navi e ciò che è avvenuto comunque quel reato che io avevo ipotizzato e cioè che era pacifico perché era stata ceduta la sovranità sul porto agli Stati Uniti per operazioni militari erano prescritte le cose erano prescritte ecco voi guardate un pochettino che questa situazione era allora questa situazione è ancora oggi e allora quell'incidente che è avvenuto allora guardate che qualche cosa che non è che ogni tanto si parla di qualche carico di armi che viene caricato scaricato eccetera poi se ne parla quando accade qualcosa poi non se ne parla più ma adesso io vi faccio vedere un due tre cartine che non è che sono molto lontane da quell'epoca questa cartina qui vedete che porta la data 14 7 1985 è l'anno in cui ho avuto io l'attentato indica vedete c'è un punto alcamo da cui viene fatto un rilievo radar questo rilievo radar parte da alcamo e lì è esattamente il punto in cui sarà scoperta la raffineria di droga un mese dopo il mio attentato stiamo parlando proprio dell'85 e vedete che questa questo rilievo arriva da qui arriva praticamente si viene segnato fino a lì ma arriva fino a qui capogallo sarebbe il punto dove è la daura la daura è il luogo dove poi è avvenuto l'attentato no? tutta questa zona qui San vitolo capo è una zona che ha avuto durante la guerra una base militare americana poi qui vedete che ci sta scritto Trapani Milo Trapani Chinisia e questi per la verità sono degli aeroporti che erano santi durante la guerra adesso guardiamo quest'altra cantina questa è dell'89 è esattamente un mese prima del dell'attentato alla daura e vedete che in questo caso il rilievo il rilievo parte da San vitolo capo e arriva proprio a capo gallo cioè proprio alla taura cioè stiamo parlando del mese prima dell'attentato delle cose curiose vedete BSS BOE di superficie satellitari cioè sono delle BOE che servono per trasmettere rilievi che vengono effettuati e vengono trasmessi queste sono cose degli americani non sono cose nostre adesso anche qui vedete tra panimilo tra panichinisia e poi uno ci pensa un attimo no e dice così ma come mani noi parliamo del 1989 o 1985 e vediamo delle operazioni di controllo militare controllo militare non nostro fatto dagli americani e e vengono utilizzate delle cartine vecchie vecchie perché sono quelle ancora del dopoguerra esattamente dallo sbarco allora incominciamo a fare qualche riflessione riflessione che e poi si alza che dice così che è scettico perché eh giustamente si può essere scettici di pronte a certi a certi fatti eh se se uno si ferma solo davanti all'apparenza però un motivo uno se lo può pure chiedere perché gli americani che sono all'avanguardia si mettono a bruciare delle cose vecchie forse è perché è come se fosse un gioco è come se fosse qualche cosa che viene utilizzato come uno scacchiere dove vengono avvengono certi fatti che vengono intenzionalmente mossi su certi luoghi in cui eh il tempo non conta eh quello che conta sono i luoghi sono i fatti è il controllo eh è il controllo della mafia questo cioè noi parliamo e abbiamo sempre saputo che in Sicilia c'è il controllo della mafia e questo sarebbe il controllo della mafia dicono i magistrati non esiste una entità superiore eh a alla mafia di Todorina e e questi che guardano dall'alto eh chi sono? allora tenete presente una cosa che questo documento è datato fine 1983 1983 1983 e si parla della pista argentina la P2 e il traffico di droga e armi allora chi lo scrive è Giovannone è una persona ehm era un funzionario nei nostri servizi di stanza di stanza che lavorava bene dice così quindi non tutti i piduisti sono trafficanti di droghe e di armi ma quasi tutti i trafficanti sono piduisti lo sono infatti i personaggi già indicati nella combin de gre versotto trapani salamone nessuno è scritto la P2 però viene detto che sono della P2 però versotto sta nella nostra storia e gli altri sono nell'atto in questo documento sono dei dirigenti delle principali banche di Sicilia la banca di Sicilia è la cassa di risparmio delle due Sicilie che rimonta all'epoca dei Savoia e lo sono i percettori effettivi delle tangenti nello scandalo Enipetromin che poi si è riverificato un'altra volta nel 92 lo era l'ex colonnello del SID Pugliese che era un mio imputato oggi in carcere e lo sono coloro che argentini italiani io andai in Argentina perché avevo sequestrato dei documenti che riguardavano i traffici di armi fatti l'anno prima in Argentina per le isole Falkland che sembrano delle cose quasi divertenti ma non lo sono gli argentini sono stati sono stati capaci tramite la P2 di ottenere dalla Francia dei missili Exocet i più sofisticati che c'erano francesi per usarli contro gli inglesi che erano loro alleati e tutto storia sono cose che sono avvenute però non è che si sono messi a litigare tra francesi e inglesi ha avuto un ruolo anche il banco abrogiano sì ma voglio dire così che si ammette tutto si ammette tutto tutto si ammette dunque oggi in carcere collaboravano a vendere armi all'Argentina durante la guerra delle Falkland lo stesso Pugliese è l'ex capo della difesa il generale Marchese l'apparista Glaulto Copacel come attestato dai quotidiani italiani tra cui Repubblica del ecco è datato 21.10 del 83 il giudice istruttore di Trento Carlo Valermo ha stabilito come certo il ruolo dei trafficanti piduisti nel mondo delle armi della droga e ha avuto in proposito un lungo carteggio con il presidente della commissione P2 onorevole Tina Anselmi tuttavia dice l'Anselmi esprime una equazione di totale identità P2 massoneria che è infondata la P2 nata al suo tempo come una loggia massonica normale è caduta da molti anni sotto il centro di una il controllo il controllo di una società rivale della massoneria la società di rosa croce con sede a Chicago e Ginevra più che altro un paravento manovrato e finanziato dalla sezione E e versione del KGB anzi la P2 intende distruggere la massoneria classica la P2 intende distruggere la massoneria classica difamandola richiamandola in causa poiché essa è è diventata è diventata un serio un serio intrancio intrancio alla sua attività questo non sono riuscito a capirlo perché non ho trovato il nome quindi andiamo avanti è inutile che lo leggiamo comunque è stato un caso di omicidio che viene citato come importante per preservare il segreto su questa P2 si potrebbe andare oltre e dire che oltre ai quattro livelli indicati la P2 è il quinto livello della struttura quello appunto riunificante allora voi pensate un po' ho ripescato questo documento per dire perché aveva detto il quarto e pensate che io sono stato quasi preso per matto per avere scritto nel 96 il libro intitolato il quarto livello quando in un documento trasmesso al presidente della commissione P2 P2 di Nansemi perché questo documento viene consegnato al presidente della commissione P2 di Nansemi parla del quinto e purtroppo con tutto che io vengo citato in questo documento che sono undici pagine più volte perché si parla di tutte le vicende che riguardano i miei processi e le mie indagini a me non lo hanno detto non lo hanno detto gli investigatori gli organi di polizia la commissione P2 con cui avevo proprio con Lansemi come viene detto un largo carteggio cioè io trasmettevo le carte a loro e loro mi avrebbero dovuto pure trasmettere le carte a me ma non le hanno trasmette perché perché in quel momento io queste cose non le dovevo sapere e allora e allora guardate un po' io questo documento lo riesco a scoprire a trovare materialmente semplicemente scartabellando tra migliaia di carte e dicendo oh cacchio cavolo ma questo parla di me parla dei miei imputati parla della mia inchiesta ma come mai a me non me l'hanno dato e invece l'hanno dato alla commissione P2 perché? per avvisare certi soggetti che dovevano stare attenti perché dalle indagini che c'erano in corso potevano uscire i loro nomi questa è stata la realtà che a me mi hanno tolto di mezzo e me l'hanno fatta chiudere le indagini e me l'hanno tolta le indagini riprendi quel documento perché è importante perché serve per spiegare sulla base di carte quello che avremmo la possibilità di dire che si deve essere scettici di fronte a certe cose però le carte parlano allora poi guardate questa pagina la vedete vedete che la P2 è scritta sette volte al quadrato al quadrato però è scritto P2 al quadrato allora comincia a ragionare e dici così ma perché è scritto in questo modo strano poi ti studi il gli atti del dei processi della connessione P2 e e viene ricostruita la P2 cioè quella organizzazione massonica in cui era a capo Licio Gelli come una piramide e viene detto è l'elenco che è stato trovato non era completo questo lo sapeva perché mancavano le persone più importanti dovrebbe esserci una piramide rovesciata superiore più grande che è come quella del lungo è praticamente dovrebbe rappresentare la parte superiore e non rivelata della P2 rispetto alla P2 e allora metti insieme quello che è scritto qui e cerchi di ragionare e viene scritto espressamente che da molti anni la P2 P al quadrato è al quinto livello ed è una cosa diversa dalla P2 semplice è il numero che è al quadrato si sa che è sempre quello più grande quindi se la P2 tradizionale quella che si conosce è una piramide qualsiasi sia la sua dimensione l'immagine è una piramide la P2 al quadrato che cos'è rovesciata è quella più grande ecco sì che è esattamente quella che viene realizzata e costruita a Louvre nel 1989 che è l'anno in cui sarebbe cambiato il mondo perché ha caduto il muro doveva accadere il muro di Berlino e doveva accadere tutto il resto e allora allora io quando nel quando io nel nel 1996 parlavo del quarto livello io intendevo parlare e spiegavo che cosa collocavo al quarto livello al quarto livello io consideravo i poteri militari servizi segreti e le banche e che cosa avevo dimenticato il quinto livello che era già scritto e e le sue radici le sue radici evidentemente hanno appartengono a un'altra dimensione a una dimensione che però sta prima delle dei servizi delle armi di chi controlla cioè non è che uno può pensare che gli americani si mettano ad usare delle cose vecchie se non c'è una ragione e allora mettendo insieme tutti questi elementi uno raccoglie un indizio e così per me è cominciato il momento in cui quando io ho scoperto questo documento eh mi sono ricordato ah ma quando è stato quell'anno il 1983 io sequestrai un pezzo di carta a un imputato quello che si chiamava Pugliese che viene scritto lì Massimo Pugliese che era uno che lavorava nei servizi un pezzo di carta in cui era sopra scritto rosa croce era scritto da un rosa croce e conteneva dentro un messaggio dove spiegava nel libro è citato questo documento è riportato un contenuto di raccomandazioni di raccomandazioni di raccomandazioni per persone che venivano raccomandate a quel massimo pugliese per farle entrare nella massoneria italiana stiamo parlando del 1983 perché quel documento che adesso non vi dirò fuori ma è nel libro è dell'83 la persona che viene raccomandata è comunque viene fatta una raccomandazione nei confronti cioè praticamente chi scrive questa lettera che dice che è il reggente di tutte le americhe che è il grande architetto l'immortale il rosa croce tutte queste comunicazioni cioè alla fine dice io metto nelle vostre mani queste due persone la seconda di queste due persone è Giuseppe Sciortino Giuliano figlio di Mariana Giuliano sorella di Turiddu di Montelepre che è il cugino di Salvatore Giuliano che è quello che venne accusato e condannato per la strage di Portella delle Ginestre ecco gli americani gli americani proteggevano il rosa croce il nipote e che stava in America che ha prima vissuto in America perché dopo la strage di Portella delle Ginestre lui se le andò in America quando è ritornato che erano acque più tranquille la massoneria quella superiore raccomanda a quella italiana dice mi puoi sistemare questa persona qui e allora che cosa significa significa che dietro Portella delle Ginestre intanto c'erano gli americani come si è sempre detto e sospettato e che chi ha subito diciamo delle accuse ingiuste è stato protetto da chi? da questa massoneria e allora allora si incominciano a intuire e a capire alcuni discorsi perché se noi poniamo al vertice diciamo dei poteri che sono sopra di noi i servizi segreti le banche le strutture militari però non arriviamo a a qualche cosa che sia anteriore vuol dire che ci sta qualche cosa che è anteriore e che copre pure il periodo anteriore e allora però badate che io questo documento io lo sequestro a un imputato nell'83 però già semplicemente leggendolo io devo tornare indietro al 1947 perché nel 1947 si parla dell'episodio del 1947 e questo qui è ancora vivo eh guardate che non si è lamentato eh di quello che ho scritto nel libro eh nessuno si è lamentato perché perché sono cose scritte quindi non le puoi scontestare carlo posso chiederti una cosa allora sì eh il 47 è eh anche l'anno in cui eh sei nato sei nato solo un la strage di portare la ragginestra i comunisti vengono estromessi dal governo eh la vicenda che tu hai raccontato così bene del del 91 e eh sarebbe potuta succedere qualche anno quindi un'invasione del territorio italiano assolutamente eh spadroneggiamento sarebbe potuto accadere qualche anno prima cioè tra eh ma no perché doveva accadere tutto tutto ciò che è avvenuto nel 91 e nel 92 93 94 doveva avvenire nel 91 92 93 94 perché nasceva l'Europa perché con l'abbattimento del muro di Berlino eh l'America come avrebbe potuto giustificare il suo imperialismo se non avesse avuto l'antagonismo se non avesse avuto il comunismo dall'altra parte doveva essere creato un avversario l'avversario il quale era era l'arabo ora riprendi no e chi è che ha quel documento là vedrà a pagina 228 che tra i soggetti che fanno parte di questa massoneria ci sta dentro la fratellanza musulmana e allora incominciamo a renderci conto che certi poteri che certi poteri certe appartenenze certe entità superiori che apparentemente sono contrapposte poi invece all'interno di certe strutture segrete certe aggregazioni di persone di carattere segreto invece vanno a braccetto sono fratelli e allora spostiamoci ecco solo un trattino per diciamo aggiornarci chi legge il libro poi potrà anche usare il computer se è capace perché basta mettere la intestazione che sta scritta qui di quello che dovrebbe essere l'autore che si chiama Felice Ergos Petrani e lo cerca sopra internet ecco questo è la statua di Lucifero ecco io sono andato a Liegi per andarla a vedere per e qua dentro dentro questo sito vengono ecco la scena viene descritta una scena dove ci sta Lucifero l'arcangelo Gabriele chi vuole se lo può leggere allora guardate un po' allora io nel 1983 sequestro un documento a un imputato imputato di traffici di armi questo documento da una parte ti fa risalire indietro di 40 anni al 47 dall'altra ti fa fare un salto fino a oggi perché oggi questi riti satanici questi questi credi questi queste credenze che aggrega questi soggetti nel tempo arrivano fino a oggi perché ci stanno le persone che seguono queste cose qui quindi vuol dire che c'è qualcosa che trascende la persona fisica e quindi merita attenzione e quindi mi metto a fare le ricerche e trovo la parola ergos chi è ergos e ergos era una entità spirituale che veniva evocata dal più recente fondatore di questi rosa croce nel 1933 con tanto di nome e cognome Giuseppe Cambareri ecco non a caso questo personaggio diciamo molto recentemente negli anni 2000 e poi dopo che l'ho tirato fuori io adesso se ne parla questo personaggio qui e faceva parte nel 1900 dal 1943 al 1947 faceva parte dei gruppi antibolcevici che erano presenti dopo la guerra e hanno affiancato gli americani durante la fine della guerra per preparare ciò che sarebbe dovuto avvenire dopo e da altri documenti che non fanno parte di questo libro perché io in questo libro sono arrivato ci sono arrivato l'anno scorso ma poi ho proseguito io e altri Cereghino lo studioso che ha scritto tanti altri libri sta facendo questi studi sulla vita vissuto in America da Giuseppe Sciortino i rapporti con gli americani e perché sono cose che fanno parte della nostra storia questo Giuseppe Cambareri è vissuto dal 1905 al 1972 nel 1972 muore in Argentina e da chi viene sostituito da Giancarlo Elia Valore che è tutt'oggi presente ed è vicino a politici internazionali diciamo vicino a politici anche vicino a governativi certo certo ecco nel libro parlo anche di cariche istituzionali conferite a questo soggetto tre anni fa eh non è che parlo di cose vecchie anche in questo caso nessuno si è lamentato allora ergos per questo soggetto chi era? Cagliostro 1785 rivoluzione francese rivoluzione francese è americana è americana allora guardate un po' cioè praticamente quel Giuseppe Gambareri che ha fondato questa cosa che compare qua nell'83 in capo al suo successore perché loro rivivono cioè praticamente ognuno porta la vita rivive il passato no? ritengono di essere ognuno come la reincarnazione dei suoi precedenti era Cagliostro quello che veniva eh eh incarnato diciamo come diceva lui da Cambaré e siamo al 1785 eh che guarda caso qualcuno che sta qui mi ha fatto una ricerca nell'archivio di Gelli per trovare se c'erano delle carte di Licio Gelli che riguardavano eh il signor eh Cagliostro appunto a nome di Cagliostro sì e abbiamo trovato una carta esattamente del 1785 però io ho trovato dei documenti che riguardano i simboli dei rosa croce che sono presenti in questa lettera del 1983 processuale cioè di carattere sono documenti reali non è che sono cose eh di fantasia e ho trovato nel libro dei simboli dei rosa croce che questi sono eh a colori perché adesso tutte le cose che faccio io stanno stanno diventando piano piano eh di patrimonio perché io le metto sopra internet cioè sopra il sito e diventano famose insomma questi simboli qui eh sono i simboli che stavano qui e allora risaliamo indietro al 1785 e nel e chi ha fatto questi simboli qui? era proprio Cagliostro e Cagliostro che cosa predicava? predicava i riti egizi e arriviamo alla chiave di volta arriviamo alla chiave di volta perché io ho avuto l'attentato a Trapani e ho avuto l'attentato a Trapani Pizzolungo che è il luogo in cui l'anno dopo il mio attentato vengono scoperte delle logge massoniche che sono denominate Iside Osiride Iram le persone che risultano quelle che vengono trovate nell'elenco e e dicono sì questo è un elenco coperto che non è da P2 e quindi è l'unico caso in cui è stata applicata la legge che venne fatta all'epoca dell'Anselmi che vietava le associazioni però dato che questi collegamenti io li ho fatti nel 2018 loro si sono ben guardati quindi anche se sia questo documento sia quello che vi ho fatto vedere prima erano alla commissione P2 si sono ben guardati dal dire così qui c'è un'altra P2 c'è una parte superiore in cui tenete presente che per la strage di Portella delle Ginestre venne fatto un nome da Gaspare Pisciotta che fu uno di coloro che venne condannato per la strage invece il nome di mandanti e tra questi c'era Scelta ma c'era pure il padre dell'attuale presidente nostro della Repubblica e purtroppo è così e io dico delle cose che non è che possono essere negate è la realtà così come è realtà perché sta scritto in atti processuali non miei ma di quelli che hanno fatto il processo a Trapani nel 1900 sulle su quelle logge che in quel luogo nel centro studi che non era americano era centro studi massonici c'è andato anche l'attuale presidente della Repubblica e di solito i massoni non è che invitano voi mi avete voluto socio io ci ho pensato non siete mazzoni ecco avete capito però vi ha fatto piacere che io fossi vicino a voi e beh qualche motivo deve esserci pure lì avete capito la nostra storia cioè non è una storia così semplice come noi crediamo e come ci viene indicata tutti i giorni dai telegiornali dalle notizie da tutto quello che ci viene detto qua ci stanno gli americani là ci stanno i cinesi l'Europa guardate le cose sono un po' più diciamo un po' più complesse e accanto a quelle semplificazioni che vengono fatte per dare alla massa quella formazione che serve per accontentare tutti ecco la mafia ha il suo potere in Sicilia e ce l'ha pure in tutto il mondo è lei che è capace a investire perché sono dei bravi contabili sono capaci i bancari non vanno toccati perché le banche non possono essere toccate però sono segnate e sono sempre quelle e sono sempre quelle e sopra guardate un po' ci sono sempre determinati personaggi io tra e poi mi fermo perché è una storia che è senza fine è senza fine ma io non vi parlo di storie astratte io vi parlo di storie concrete in cui ci sono stato io insieme a altri magistrati che sono morti e ammazzati per aver indagato su queste cose qui senza saperlo senza saperlo senza saperlo perché erano cose che ci capitavano sotto ma non lo sapevamo nessuno di noi sapeva che cosa c'era che era stay behind perché sono state dette dopo il Lodo Moro ma il Lodo Moro c'è morto Moro per primo e adesso si viene a sapere che chi sono gli americani leggendo il libro vedrete la spiegazione sono cose dette sotto le spiegazioni si è stato un americano ma chi gli ha dato loro quello serve è la matrice la matrice chi perché per governare il mondo questa è la realtà queste sono ma io a un certo punto in questo libro chi lo leggerà si troverà un nome sta subito ne parlo fu era un siriano si chiamava Arsan Henry io lo arressai ci aveva pure qualcosa come 70 72 anni era 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 colui il quale in Europa da Varese perché era sposato con una Varesotta sua complice gestiva in monopolio monopolio sapete che vuol dire cioè era lui per tutti era era lui che cosa tutte le industrie delle armi sia del della parte occidentale e sia della parte orientale che cosa significa sia quelle di America eh Stati Uniti eh Francia Inghilterra Italia sia quelle della Unione Sovietica quelle della Cecoslovacchia della Cina eh della Bulgaria eh eh allora io arresto questa persona qui e eh dentro gli uffici della criminal pol di Roma troverete anche qua dentro o mi pare che ci sta un estratto un documento in cui risulta proprio scritto è scritto su carta intestata del Ministero dell'Interno è scritto che questo Arsanerri era venuto a in Italia aveva cominciato a svolgere questa sua attività di eh venditore autorizzato di armamenti dal 1958 pensate un pochettino poi nel 1970 gli americani hanno raccolto le prove nei suoi confronti lo hanno incastrato praticamente e lo hanno costretto a lo hanno costretto hanno preteso che lui diventasse loro informatore statevi attenti oggi eh perché oggi è possibile anche in Italia perché noi prendiamo sempre gli esempi e le cose migliori eh dagli americani abbiamo imparato a fare i processi eh con i collaboratori di giustizia all'epoca mia era più difficile raccogliere le prove almeno quando si raccoglievano eh si faticava oggi si fanno i processi velocemente per farli si fanno dichiarazione di qua dichiarazione di là tutti i nomi che stavano sopra di lui lui forniva in particolare le armi a chi? agli arabi perché? ecco perché c'erano gli accordi ecc con i palestinesi che eh eh fornivano la mafia e quindi c'erano gli accordi sulla droga le armi e tutte queste cose qui ma lo sapete chi era il capo? il capo era un israeliano eh ecco e allora e allora ecco che eh ne viene fuori eh diciamo la morale e la spiegazione che eh noi siamo abituati a ehm ehm formare i nostri convincimenti le nostre valutazioni su eh su ciò che ci viene detto eh dai media eh e quindi ci vengono inquadrati determinanti nemici ci viene detto eh 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 che sono eh che i palestinesi che assomai sono tutti cattivi ma non è vero sono i trafficanti quelli che eh eh che lo sono e che non sono solo trafficanti per fare la causa palestinese no sono trafficanti per guadagnare e per avere i loro lucri sono cose ben diverse o per fare le guerre ma non le guerre per loro erano all'epoca per l'Iran erano per l'Iran le armi procuravano le armi all'Iran e sapete chi è che organizzava questo tutta questa operazione erano gli americani ma le armi che erano le armi erano sovietiche perché? perché gli americani dovevano certo non far risultare che andavano a Khomeini le armi proprie del proprio paese ci andavano le armi eh eh sovietiche facendo un giro che passava dalla dalla Spagna allo Yemen del Sud arrivavano a Islamabad e poi da lì a a Teheran ecco queste sono le storie del passato che sono le storie di oggi sono le storie di oggi in cui piano piano eh per esercitare potere per trovare gli avversari eh eh c'è stato prima eh il terrorismo eh e il comunismo poi quando si è dovuto cambiare perché eh il comunismo col muro di Berlino si doveva togliere e c'è stato l'integralismo islamico adesso sta finendo anche questo eh nonostante se lo siano fatto durare il più a lungo possibile e piano piano vedete che eh si sta introducendo il nuovo interlocutore che è quello della Cina e perché è così è tutto scritto prima è tutto voi vi credete che il nostro destino sia eh sia veramente espressione della nostra libertà no purtroppo noi abbiamo siamo a abbiamo dei margini ristretti della nostra libertà ce ne stiamo accorgendo adesso che può essere un governo può essere l'altro eh eh i margini di intervento cambiano così ormai chi comanda sono le banche sono i poteri finanziari e chi ci sta sopra chi ci sta dietro ecco e noi siamo in una certa età e possiamo cercare di studiare e di capire poi saranno i giovani purtroppo a dover affrontare questo periodo della 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 storia che ci attende e che sarà senza valori senza grossi ideali perché li hanno cancellati non stanno scritti più da nessuna parte io vi giuro vi assicuro che eh a me io ho vissuto sono sessantottino io ho vissuto proprio eh ho fatto l'università dal 66 al 70 quindi me le sono beccate tutte quelle quel periodo lì però io vi dico che c'era c'era la destra giurisprudenza a Roma era fascista e la facoltà di lettere e di architettura era comunista però io vi dico che erano da rispettare tutte e due c'erano idee c'erano c'erano valori oggi è difficile trovare i valori è è difficile ricostruire la stessa nostra storia non ci abbiamo più storia di tutto quello che vi ho parlato ma ne esiste traccia c'è uno studente che esca dal liceo che ha fatto la storia che ha studiato la storia fino al 2000 che dico al 2000 al 47 neanche la geografia non sanno manco che siamo stati un paese con le colonie però si parte dall'altra storia però si parte dalle ma ogni volta quando si ricomincia ecco e quindi e quindi io vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato di stare a chiacchierare potrei stare fino a domani dopo domani sarà per la prossima volta grazie 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 grazie